Una call per le application che da ieri appunto si stanno iscrivendo, questi sono fondi destinati alla creazione dei Fab Lab, dei laboratori, degli atelier creativi, noi abbiamo l'ambizione nel giro di questo anno con questi 28 milioni di euro e con i 40 milioni aggiuntivi tratti dal PON Scuola di coprire tutto l'arco della scuola primaria, questo anno riusciremo a finanziarne circa 2000, l'anno scorso abbiamo fatto un passetto un pochino più modesto ma siamo convinti e siamo sicuri di poter arrivare a questo importante obiettivo.